Questa mattina presso la sala conferenze del Comune si è svolta la conferenza stampa della sindaca Cecilia Francese concernente la società Alba di Battipaglia. In particolare sono state illustrate le azioni intraprese per il futuro della società. Ebbene oggi possiamo dire che Alba chiude con un utile di un milione di euro. Andremo ora a ricapitalizzare cosa che abbiamo deciso in Consiglio Comunale dopo che abbiamo visto le potenzialità di questa società con 500 mila euro, con soldi veri, non con immobili. Anche questa è una scelta politica importante che è completamente differente dalle scelte passate perché se no avremmo avuto lo stesso problema della liquidità. Ora che noi abbiamo praticamente riorganizzato e messo alla luce e soprattutto messo in risalto le grandi potenzialità di questa società, ora si può modernizzare la società, ora si può acquistare, avere un parco auto più moderni, si può pensare ad un tipo di raccolta differenziata, differente rispetto a prima, magari avere come modello questo che succede nelle grandi città con prendere dei quartieri in esempio con scombarti sottointerrati usando la testa. Ora si può, si doveva mettere prima mano alla questione del bilancio, ora si può assumere forza giovane, ora si possono fare tante cose, Ora come si può agire su Alba? Ora si può anche incominciare a programmare verso il nostro comune. Tu sai che anche per quanto riguarda l'ente comune noi abbiamo trovato una situazione debitoria che era veramente terribile, 23 milioni di euro di savanzo e 15 milioni di euro fuori bilancio. Questa amministrazione francese per operare ha dovuto mettere prima mano al bilancio, ha voluto far venire fuori quello che erano i debiti e della società partecipata e del comune di Battipaia, adesso si può, si può programmare, si può rilanciare e si può venire nell'interesse della nostra comunità. Ad oggi possiamo dire che sono stati creati le supposte e le basi per consolidare la struttura economico-finanziare della società e di riflesso alla struttura organizzativa in termini di mezzi e personale, perché non ci dimentichiamo che noi partiamo da una società in cui l'età media del personale è molto avanzata, è un lavoro usurante, un parco macchine ormai molto datato, figuratevi che l'ultimo acquisto in Alba è stato fatto 7-8 anni fa, quindi il mezzo più giovane ha 7-8 anni, quindi mezzi soggetti a continue manutenzioni, a continue rotture, personale quindi di età molto avanzata, molti dei quali anche affetti da patologie invalidanti, per cui voglio dire con questi fattori della produzione il risultato finale non può che essere mediocre. Ci aspettiamo che appunto, riorganizzando questi fattori, introducendo elementi di turnover, elementi di meccanizzazione che sono indispensabili per un buon funzionamento del servizio, tutto questo riesca poi a migliorare il servizio di igiene urbana e di raccolta differenziata.